Ciao a tutti, sono Ginny e mi sto fingendo Ginny. Finalmente vado a scuola. Non sono mai andata a scuola perché i miei genitori non mi volevano mandare a scuola. Dicevano che la scuola influenza il tuo pensiero e perciò poi non sei più libero di pensare. Questo è quello che dicevano i miei genitori. Ma io adoro andare a scuola e finalmente ne ho l'opportunità. Grazie a Ginny, lei ora sta vivendo la mia vita. Assieme ai miei genitori. Ragazze, ragazze. Aia, cosa c'è? Non dirmi che è ancora per quella storia. Ginny è Ginny, non è Ginny. Come te lo devo dire? Sei impazzita, Aia. Già, Aia. È sempre stata un po' gelosa di Ginny. Sai, per via di morti. Ah, voi non capite, morti. Sì? Almeno tu ti sarai reso conto che Ginny non è la tua Ginny. Se l'ami davvero dovresti percepirlo. Eh, veramente non ho avuto occasione di stare solo con lei perché... È colpa mia. Sono appena tornata a scuola e ho monopolizzato il tempo del mio fratellino. Mi sta spiegando tutte le cose che mi sono persa. Sto recuperando tutte le materie. Quindi tu non sei ancora stato solo con Ginny? Cioè Ginny? Eh, no. Non ne ho avuto tempo ma... Dopo scuola usciamo assieme. Ok, quindi al momento sei inutile. No, povera Aia. Ora si è messa in testa questa cosa. Devo stare attenta ad Aia. Lei mi odia ed è l'unica che ha capito che io in realtà sono Ginny. E mi sto solo fingendo Ginny perché voglio la sua vita. La voglio tremendamente. Ciao, Ginny. No, Ginny. Mi hai sentito quello che ha detto Aia? Noi non le crediamo, eh? Lo so, ragazze. Aia è sempre stata gelosa di me. Lo sapete? Prima ha cercato di rubarmi i morti. E beh, ora si è inventata questa cosa. È gelosa della mia amicizia con Ginny. Eh, già. Da quando Ginny ha scoperto di avere una sorella gemella, Aia è stata messa un po' in disparte. Già, non escono più assieme come una volta. Si sentiva esclusa. Tu. Oh, Aia, fammi passare. Devo andare a parlare con il preside. Tu. Non la passerai, Alicia. Credimi. Senti, Aia, se pensi che io non sia Ginny, allora chiama Ginny. Insomma, quella che tu credi essere Ginny, ok? E chiedi a lei. Lo farò. Non ti preoccupare. Enea? Sì? Visto che indossi i miei vestiti, me li hai rubati e ancora non me li hai ridati. Beh, ti chiedo un favore. Eh? Cosa, Aia, dimmi? Voliamo a casa di Ginny. Subito. Ok. Ora? Ma salteremo scuola? È ricreazione. Torneremo giusto in tempo per l'inizio delle lezioni. Ok. Quindi andiamo nella fattoria? La casa di campagna non è una fattoria. Ok, ok. Non ti scaldare. Come vuoi. Ginny? Aia, qui non c'è nessuno. Com'è possibile? Dovrebbe essere qui. Ha detto che studia da casa, ma che studia? Eh, mi spiace, ma qui non c'è proprio nessuno. Che abbiano cambiato casa? Mh, dubito, insomma. Non stavano bene economicamente. Come hanno fatto a permettersi un'altra casa? Oh, aspetta. So a che chiedere. Vieni. Cosa? Dove andiamo? Andiamo dalla nonna. La mia nonna. Dalla fata vegana. Oh no, quella è tutta matta. Oh, guarda Enea. Enea che vola con un'amichetta. Enea! Enea! Nonna! Salve, fata vegana. Ah, nonna, che profumino. Già, che profumino. Sembra carne alla griglia. Come vi permettete? Sono la fata vegana. Non mangio carne. Guardate qua. C'è forse traccia di carne qui? No. No, di certo. Eh, beh, però che profumino buono. Perché siete qui? Volete mangiare le mie cose? Eh? Eh, no, signora. Ecco, nonna. Ah, stiamo cercando Ginny. Ti ricordi? Ginny e i suoi genitori? Eh, ma certo. Come dimenticarmi di loro? Mi devono un bel po' di pomodori. Dovranno lavorare gratis per un anno almeno per me. Oh, allora è per questo che non ci sono. Sono scappati. Non volevano lavorare gratis per la fata vegana. Ma, nonna, dai, li hai fatti scappare ed ora come li troviamo? No, non sono scappati. Si sono trasferiti, me l'hanno detto. Me l'hanno comunicato, sapete, io li tengo ad occhio dopo quello che hanno fatto. Ora non mi sfugono più. Si sono trasferiti, volete andare a trovarli? Eh, beh, sì. Sì, sicuramente. Dai, dai, vi do l'indirizzo. Oh, Gianni. Ehm, salve, professoressa. Gianni, ho pensato così tanto a te. Che cosa vuole questa? Ehm, sì, e come mai? Ma Gianni, per quello che stai passando, vorrei parlare con te. Ti va di venire nel mio ufficio? Ehm, non sapevo avesse un ufficio. Ma dove siamo state l'altra volta, Sofia? L'aula insegnanti, vorrei parlare con te e capire se hai pensato a qualcosa, se sei giunta ad una conclusione. È importante parlare con gli adulti. Ah, avrei da fare veramente. Gianni, questa volta non transigo. Dobbiamo parlare, ed è per il tuo bene. Ti aspetto dopo scuola, finite le lezioni nel mio ufficio. La stanza insegnanti. Ma è d'ora che cosa vuole questa? Ma guarda, un'altra che parla da sola e poi danno a me della ragazza un po' particolare e strana. Però di questi individui che parlano da soli nessuno dice mai nulla. Che cosa vorrà? Gianni non mi ha avvertita di questa cosa. Devo far finta di sapere che cosa vuole quella professoressa. Chi altro potrebbe sapere che cosa vuole lei da Gianni? Non posso chiedere aiuto da nessuno. Ma devo chiamare Gianni. Lei è l'unica che sa darmi questa informazione. Ma Gianni non ha un cellulare. Insomma, come faccio a chiamare mia sorella se lei non ha un cellulare? Non posso neanche contattarla. La prossima volta devo darle assolutamente un cellulare. Tutta colpa dei miei genitori. Non hanno mai voluto la tecnologia. E sono sempre stata tagliata fuori dal mondo. Senza un cellulare. Ma si può. Ed ora che cosa faccio? Beh, mi basterà stare in silenzio ed ascoltare ciò che ha da dirmi quella guastafeste. Doveva proprio parlarmi. Rischia di rovinarmi il piano. E non ho tempo da perdere. Ho una settimana per appropriarmi della vita di Gianni. E nel frattempo, devo trovare il modo di portare Gianni alla New Reverse. Così le farò perdere la memoria e rimarrà incastrata nella vita di Gianni per sempre. Ah, quando ci vuole, ci vuole. Che strana conversazione ha avuto Gianni con se stessa. Ma le ragazze sono strane. Non le ho mai capite e mai le capirò. Ah, mi viene da vomitare a pensare che Gianni si sta spacciando per Gianni. Nessuno la riconosce. Aia, ciao Aia. Ciao Freddy. Ah, che succede Aia? Hai forse rotto con Felix? Cosa? Io e Felix non stiamo assieme. Questione di tempo, l'ho capito. Insomma, io proprio non ti piaccio. E dai, l'ho capito che sei innamorata di Felix. Prima morti e io ti ho corteggiata lo stesso. Poi, Felix, io ti ho corteggiata lo stesso. Ma adesso basta. L'ho capito che non ti piaccio. Bastava dirlo subito. Freddy, stai zitto. Stai proprio zitto. Da, comunque, se tu sei strana, Gianni lo è ancora di più. Eh? Che vuoi dire? Ero nel bagno, facevo i miei bisognini. Tutto tranquillo, sai. Quando hai mal di pancia è bello potersi liberare. Comunque, è entrata Gianni in bagno. E hai iniziato a parlare da sola. Hai iniziato a parlare da sola? Beh, a volte le persone lo fanno. Non è di certo... Sì, beh, forse sì, è una stranezza. Ma cosa diceva? Mmm, sai che non me lo ricordo? Non ho prestato molta attenzione. Freddy? Può essere importante perché sospetto che Gianni non sia Gianni. Cosa? Hai capito bene. Sospetto che Gianni si stia spacciando per Gianni. E allora quella non è la vera Gianni ma è Gianni? Sì. E allora la vera Gianni dov'è? La vera Gianni si sta spacciando per Gianni. E non so che cosa le sia saltato in testa per fare una cosa del genere. Comunque, dopo scuola risolveremo ogni cosa. Eh? Beh, io e Nea siamo andati alla fattoria della fata vegana. E ci ha dato l'indirizzo, il nuovo indirizzo, di Gianni. Cioè, Ginni. Ah, che confusione! Vuoi andare a casa di Ginni? Certo, voglio parlare con lei. Perché la finta Gianni non ammetterà mai ciò che sta facendo. Magari la finta Gianni lo ammetterà. Insomma, stiamo pur sempre parlando di Gianni. Eravamo amiche, prima ancora di diventare nemiche. Conterà pur qualcosa il nostro rapporto di amicizia. Non può tenere nascosto ciò che stanno facendo, uno scambio di vite. Ai ai ai, lo dicevo che parlava in modo strano la finta Gianni qui in bagno. Se solo avessi prestato più attenzione, aia, mi spiace. Ma aiuterò te ed Enea. Vengo con voi. Grazie. E spero che queste ore passino in fretta. Perché non sopporto più la vista della finta Gianni. Bene ragazzi, la lezione è finita. Andate a casa, mamma mia, mi avete sfinita, sfinita. Finalmente. Non devo più stare seduta vicino a te, Gianni. Ma sono Gianni e comunque se la metti così neanche a me fa piacere averti come compagna di banco. Professoressa, propongo uno scambio di banchi. Cosa? No, non puoi farlo, Gianni. Io e Adisi dobbiamo rimanere vicini di banco. Ma io non voglio stare vicino ad Aya, perciò voglio scambiarmi con qualcun altro. Va bene, vi scambierete tutti di banco domani, ok? Rivediamola a disposizione. Ma non puoi farci questo, nonna. Ti prego, non stai ad ascoltare, Gianni. Chiaramente ti sta anche antipatica, essendo la figlia dell'amante di tuo marito. Eh, e dai, vorrei mica favorire lei. Ragazze, non faccio preferenze, ok? E per dimostrare che non faccio preferenze, ascolto anche ciò che dice la figlia dell'amante del mio ex marito, ok? Quindi da domani cambierete tutti il banco. Punto e basta. Arrivederci, andate a casa. No, che stanca che sono. Ciao papà. Per tutte le canonate del mondo, Bernice, cosa ci fai con quel secchio? È l'unica cosa che ho trovato al posto del vasino, lo sai? Oggi ho tanti problemini, non riesco proprio a contenermi. Ho dovuto fare dieci pause durante la lezione. Ah, Bernice, povera Bernice. E così hai un bidet portatile. Esatto, papà, un bidet portatile. Gianni, ora ne parliamo tornando a casa, non pensare di sfuggirci. Già, Gianni, guarda che cosa hai combinato. Io e Charlie domani verremo separate di banco per colpa tua. Vedi di fare pace con Aya. Io non faccio pace con Ginni, detesto Ginni. Non sono Ginni, sono Gianni. E comunque, ragazze, mi spiace deludervi, ma devo parlare con la professoressa di teatro. Isabel, mi sta aspettando. E non so neanche dove sia quell'aula. Oh, ma che fortuna. Isabel, stavo giusto venendo da lei. Da me del tu, cara. Da me del tu. Cosa, cosa? Aya. Sì? Ora inizio a crederti. Gianni mi sta proprio antipatica. Già. Quella non è Ginni, è Ginni. Hmm. Questo non lo credo, ma comunque, se vuoi sbarazzarti di lei, sono d'accordo che sia Ginni o Ginni non mi importa. Mi ha separato di banco con Isi. Ben detto. Ma ora devo andare a parlare con la finta Ginni, ossia la vera Ginni. Enea, andiamo. E viene anche Freddy. Sì? Vi stavo giusto aspettando. Ciao ragazze, cerchiamo di risolvere la situazione. Come pensi di risolvere, Enea? Non lo so, ma ci proviamo. Allora, Ginni, hai deciso che cosa fare della tua vita? Eh? Della mia vita? Ma certo, Ginni, ne abbiamo parlato e io ho passato da adolescente ciò che tu stai passando ora. Ehm, ma che cosa vuole dire questa? Sì, è vero. Eh, ecco, che cosa mi suggerisce? Ma, semplice, devi seguire il tuo cuore. Te l'ho detto, hai numerose possibilità. Imma, io spero che tu non faccia il mio errore. Insomma, l'adozione a me ha spezzato il cuore. L'adozione? Oh, sì, certo, i miei genitori li detesto, ma... Non voglio essere adottata da qualcun altro. No, rimarrò con i miei genitori. Cosa? Ehm, Ginni, stai sviando il discorso. Lo sai benissimo che non sto parlando del rapporto con i tuoi genitori, ma sto parlando del bambino. Ehm, il bambino? Che bambino? Sei matta? Ehm, certo, certo. Ho pensato, ho pensato e ripensato e alla fine sono ancora indecisa. Questa è la cosa giusta da dire, così non ho detto nulla e... Boh, sentiamo che cosa ha da dire. Lo so, non è una decisione facile. Hai ancora tempo per pensarci. Allora che ne dici di venire qui a chiacchierare con me? Ogni settimana. Sono pronta ad ascoltarti. Sì, 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 certo. Però, sa, sono un po' impegnata. Una volta alla settimana mi sembra troppo. Che ne dici una volta all'anno? Ah, Jenny, hai sempre voglia di scherzare. Dai, ti aspetto la settimana prossima e spero che avrai chiarito un po' le tue idee. Ti lascio tranquilla, non voglio stressarti con la storia della gravidanza. La gravidanza? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Jenny è incinta? Jenny è incinta? Caspita, alquanto tetra, com'è? Fattoria. È una casa di campagna. Eh sì, c'è un po' di nebbia. Sentite, suoniamo. È aperto. Beh, Dlindlon. Eh? Hai fatto tu il campanello, Enea. Non c'è nessun campanello. Mi sembrava brutto entrare senza suonare. Perciò, Dlindlon. Oh mio Dio. Permesso? C'è nessuno? Eh? Oh, siete gli amici di Jenny. Prego, venite. Ho appena sfornato una torta. E sono deliziose le torte della mia dolce mogliettina. Eh, possiamo parlare con... Jenny? Già, possiamo parlare con lei. Oh, guardate. Ci sono degli ortaggi su questo vaso. Freddy, tu puoi rimanere lì fuori. Tanto è inutile. Beh, Jenny è in camera sua. Sta giusto finendo di studiare. Tra pochissimo pranziamo. Volete fermarvi con noi? Oh, ma con piacere. Adoro mangiare. Enea, no, ecco. Voglio solo parlare con Jenny. D'accordo, ragazzi. Ma fate in fretta. Perché poi il cibo si fredda. Eh, già. Eh, Jenny? Jenny? Oh, dovrei chiamarti Jenny. Jenny? Già? Oh, come sei carina con questo taglio, Jenny. Voi come fate a sapere che sono Jenny? L'ha ammesso, l'ha ammesso. Allora lo ammetti. Tu sei Jenny e ti stai fingendo Jenny. Shh. Non ditelo a voce alta. Jenny voleva tanto vivere la mia vita. E mi sembrava giusto fargliela provare. Perché è stata sfortunata. È stata la più sfortunata tra noi due. Anche se, beh, in realtà ha avuto una famiglia meravigliosa. Ciò che è mancato a me. Jenny, ma ti rendi conto che cosa stai facendo? Sta ingannando tutti. È vero. Sta ingannando tutti. Scusatemi, ma lo sapete che ho passato la più bella giornata della mia vita? Cosa? Questi genitori sono fantastici. Insomma, stanno sempre con me. Mi aiutano a studiare. E abbiamo anche cucinato una torta assieme. Cose che non ho mai fatto con Brenda. Jenny, vorrei mica continuare con questa farsa. Cioè, è pericoloso, Jenny. E poi lo sai. Come farai a nascondere la pancia una volta che ti crescerà? Eh? Perché? Pensi di mangiare tanto? Guarda che anche se ingrasserai un pochino non starai mica male. Sono belle le donne curvi. Enea, stai zitto. Non hai capito nulla. Ad ogni modo, Jenny, tu hai capito. Ci penserò. E come ha detto Enea, anche se ingrasserò non importa. Dirò che ho mangiato un po' troppo. Penso di non star capendo più nulla. Jenny, ti prego. Smettila con questa farsa. Aia, adesso basta. Voi non mi rovinerete la vita. Ma non te la voglio rovinare. Nessuno vuole rovinarti la vita. Io qui ho trovato l'amore di due genitori, la famiglia che volevo, la famiglia perfetta. E non mi porterete via da qui. Ho una settimana da vivere con me, Jenny. E voglio godermela. Ed ora scusate, ma è pronto il pranzo. Cosa? Quindi Jenny è d'accordo con Jenny. Vuole rimanere qui una settimana. Lasciamoglielo fare. In fondo è solo una settimana. Questa storia non mi piace. Ho come l'impressione che si stia cacciando nei guai. Lo so, ma non possiamo fare nulla. Lei ha deciso così. Ha preso la scelta sbagliata. Enea, ci fermiamo a pranzo. Cosa? Signora? Sì? Ci fermiamo a pranzo. Penso di aver cambiato idea. Accettiamo il vostro invito. Oh, che bello. Allora andate a cogliere le verdure, su. Cosa? Sì, prendete le verdure. Prepariamo una bella insalatina. Un'insalata? Come? Vi fermate a pranzo? Sì, Ginny. Siamo tuoi amici. Vogliamo fermarci qui a chiacchierare con te. Non mi guardare male. Ginny, 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 Ginny. Non lo so. Ginny, Ginny. Non mi guardare male. Non mi rovinerete, questa famiglia. Ehi! Ho sentito che si mangia. Ehi là! C'è un posto a tavola in più? Ragazzi, le sedie non bastano. Ma potete sedervi per terra. Qui non chiudiamo le porte in faccia a nessuno. Sì, allora mi aprite la porta? Questa è la famiglia che ho sempre sognato. E io non me ne vado da qui. Questo non ci voleva, non ci voleva. Ed ora come faccio? Come faccio a fingere una gravidanza? Beh, potrei sempre dire che ho perso il bambino. Sono cose che capitano. Devo informarmi. Devo sapere tutto su una gravidanza? Questa non me l'aspettavo. Allora era questo il segreto di cui mi parlava Ginny. Lei è incinta. Come ha potuto tenermi nascosta una cosa del genere? Ora devo pensare a come andare avanti con questa situazione. Non posso venire scoperta per colpa di un dettaglio così. Troverò di sicuro il modo per cavarmela anche in questa situazione. Grazie. 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 Grazie.